Bene, allora vedremo in questo video una cosa nuova cioè in pratica vedremo come fare questa animazione vedete che c'è un'animazione in cui c'è sostanzialmente appena bozzata una specie di bocca che praticamente vedete che nel momento in cui facciamo animare si apre e si chiude in una specie di sorriso l'idea che sta dietro alle tecniche che vedremo stasera sono molteplici ma sostanzialmente vedremo un sistema per modellare questa specie di tubolatura che permetterebbe di fare diverse cose mediante alcuni modificatori, il modificatore skin, il modificatore subsurface e il control click, partendo dal control click e poi vedremo invece il concetto base, sono le chiavi di forma in questa forma che sono le key shapes che i shapes le vedremo poi con calma comunque adesso partiamo con qui state vedendo Blender 279B perché Blender 279B? perché le animazioni fatte con Blender 279B possono essere trasportate direttamente in Sketchfab lo stesso non si può dire in Blender 280 almeno non ancora adesso quindi noi vedremo questa cosa fatta in Blender 279 e poi vedremo la stessa cosa eventualmente la possiamo anche salvare e importarla prima dell'animazione in Blender 279 in modo tale da poterla poi esportare tranquillamente in Sketchfab quindi iniziamo qui siamo in Blender 280 la versione è quella che ho scaricato ieri che era l'1 luglio vedete 1 luglio 2019 ma dovrebbero andare bene anche tante altre versioni e cominciamo col concetto del control click il control click vuol dire mettere i vertici direttamente premendo il tasto destro nel caso di Blender 289 però prima di poter mettere di usare il control click dobbiamo avere una mesh vuota quindi possiamo partire da una mesh piena come anche il cubo che abbiamo davanti lo andiamo in Edit Mode con Tab andiamo in Edit Mode e poi cancelliamo tutti i vertici X Vertices quindi la mesh in questo momento è vuota facciamo 7 per vedere dall'alto e poi a questo punto possiamo fare CTRL tasto destro click quindi se io faccio CTRL tasto destro click qua compare un punto e se faccio continuo a fare CTRL tendo premuto CTRL faccio praticamente una sorta di arco questo l'idea di questo arco è quella di rappresentare una specie di bocca quindi facciamo poi anche la parte di sotto che sarà più o meno possibilmente più o meno simmetrica e poi nell'ultimo per unire gli ultimi punti facciamo Shift click ma a sinistro vedete che è selezionato questo ultimo punto perché l'abbiamo lasciato lì facciamo Shift click quindi abbiamo selezionato due punti e poi facciamo F Fill e viene fillato e a questo punto abbiamo la nostra ipotetica struttura ora questa struttura la cosa interessante è riuscire a fargli una sorta di tubolatura che la prenda tutta allora la tubolatura viene ottenuta con un effetto che si chiama Skin e lo Skin lo otteniamo qui cerchiamo lo troviamo qua nel Modifier Modifier Skin Pelle se lo avete in italiano e quando si aggiunge questa cosa vedete che ha già aggiunto questo giro attorno se non ci piacesse nel senso che vedete che lo fa abbastanza largo potrebbe anche andare bene però se volessimo farlo più stretto dovremmo selezionare quindi magari facciamo così cliccando qua si vede la figura originale e non il modificatore applicato premiamo A per selezionare tutti i punti e poi così siamo sicuri di averla selezionata tutti e qui a questo punto possiamo fare mi sembra mi sbaglio sempre dovrebbe essere CTRL A se facciamo CTRL A vedete che si può agire sul modificatore Skin in modo tale da aumentare e diminuire la potenza dello skinning magari otteniamo una via di mezzo tipo questa poi assicurandosi di essere in Object Mode applica questo modificatore e abbiamo questa bocca fatta così se la vogliamo un pochino più tonda aggiungiamo un modificatore SubSurf modificatore SubSurf vedete che lo fa un pochino più circolare applichiamo anche questo modificatore e poi visto che ci siamo facciamo lo Shade Smooth perfetto quindi questa tecnica che avete visto si può applicare per fare moltissime cose io vi compreso anche degli omini nel senso si può fare tipo come vedete funziona un po' come se fossimo fossero dei palloncini che vengono poi gonfiati e con la stessa tecnica si possono fare degli omini quindi partendo dal busto del torace le gambe le braccia la testa magari facciamo poi anche un piccolo un piccolo video anche sul 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 modo di fare insomma per fare degli dei giocattolini insomma delle cose low poly fatte così il modificatore screen ha anche la sua dalla sua la cosa di poter fare di generare automaticamente anche un'armatura ma noi in questo video vediamo un sistema alternativo per fare il più che rig diciamo l'animazione di questa struttura nel senso che in alcuni casi è scomodo accedere alle ossa quindi qui se dovessimo mettere delle ossa per simulare il movimento non è detto che verrebbe bene si può fare si può tentare ma in questo video cercheremo di usare appunto le keyframe le key non le keyframe ma le key shape quindi keyframe sono quelle che mettiamo qua e le key shape le metteremo qua praticamente andiamo qui nel verde l'unico posto verde credo che sia l'unico posto verde sì quindi il posto verde sono praticamente i vertici e mentre siamo nei vertici vedete qui abbiamo shape keys shape keys quindi shape keys come funzionano bisogna essere credo in object mode vedete che quando siamo in object mode qui diventa possibile cliccare su questo tasto e bisogna mettere una shape di partenza facendo più vedete che si chiama basis una volta selezionata la shape di partenza si può selezionare una shape alternativa che si chiama key1 si può dare anche un nome quindi questa potrebbe essere bocca chiusa e la bocca chiusa adesso andiamo a farla vedete che adesso la bocca è aperta per renderla chiusa come facciamo andiamo in edit mode e proviamo a ragionare in termini vediamo un po' il modo più semplice per chiudere questa bocca si potrebbe fare alt clic sinistro vedete che si seleziona praticamente tutto tutto questo giro di vertici e poi si potrebbe cercare di restringere lungo l'asse lungo l'asse verde y quindi facciamo s y solo che così vedete che si chiude si la bocca ma in un modo un po' innaturale quindi proviamo adottare una tecnica che si chiama proportional editing proportional editing cliccando qua funziona in questo modo che tutte le volte che si spostano dei vertici questi trascineranno con sé anche i vertici adiacenti quindi adesso noi facciamo s y e poi vedete che praticamente possiamo fare quello che stiamo cercando di fare adesso riproviamo a farlo teniamoci lontani di qua in modo tale da poterlo lavorare quindi s y e possiamo avvicinare quel cerchio bianco indica la potenza con cui con cui cerchiamo di agire sull'intera mesh quindi se noi andiamo in su col mouse vedete che ha un influsso minore se noi lo ingrandiamo ha un influsso maggiore e dovete esercitarvi per capire qual è la cosa che potrebbe essere interessante in questa cosa l'influsso minore potrebbe addirittura essere quasi più bello perché dà l'idea della bocca che si allarga quindi andiamo a metterla qua e poi qui gli mettiamo il 1 ok allora a questo punto cosa succede che se andiamo in object mode e andiamo nel vedete che se clicchiamo su basis cliccando sulla bocca chiusa abbiamo il valore di questa shape keys questa shape keys vale 1 ma se noi vedete che diminuiamo il valore della shape keys torniamo alla versione diciamo alla versione diciamo aperta ora in realtà questa shape keys la possiamo anche cambiare leggermente nel senso che si può fare alzare a sorriso come ho detto prima quindi lavorarci prima e fare altre modifiche le lascio fare per esperimento ma per brevità nel video ci fermiamo qua quindi avete visto che abbiamo una shape keys che va su e giù ora questa shape keys è interessante ma dobbiamo animare allora animare una shape keys vuol dire fondamentalmente scegliersi un frame 1 e poi su questo frame metterci un valore di cioè prendere uno dei valori per esempio il valore è questo il valore della shape keys bocca chiusa e poi mentre siamo su questo campo possiamo inserire il fotogramma chiave e questo cosa si può fare semplicemente premendo la i quindi se premo i vedete che cambia colore sì e inoltre qua sono comparsi i triangolini i quadratini i rombini come volete chiamarli quindi vuol dire che al momento 1 abbiamo la shape keys 1 andiamo al momento 20 e prendiamo la stessa shape keys questa e la mettiamo al massimo quindi la mettiamo chiusa 1 e poi facciamo di nuovo un i vedete che è comparso un'altra tripletta di elementi poi al momento 40 quindi facciamo finire la nostra animazione al momento 40 quindi end 40 facciamo tornare la bocca alla posizione iniziale per fare questo facciamo alt A selezioniamo i tre pallini questi facciamo mi sembra shift D quindi spostiamo questi tre pallini e li mettiamo fino al punto 40 questa è la tecnica che abbiamo anche spiegato per mettere la posizione iniziale anche nelle keyframe quindi a questo punto se noi andiamo a muovere l'animazione vediamo che abbiamo l'animazione che oscilla e quindi se facciamo play abbiamo la bocca che si apre e si chiude ora questo tipo di animazione vedete è abbastanza interessante la possiamo esportare su Sketchfab che è quello che ci interessava ci ho provato allora sto spostando così com'è e facendo l'export in FBX o in altri formati non ci sono riusciti non ci sono riuscito quindi FBX no GLTF neanche con l'ADA ho avuto forti problemi quindi l'unico modo serio per salvare questa cosa è farlo usando Blender 2.79 quindi come facciamo a farlo? beh potremmo intanto provare a salvare in un formato che poi magari proviamo a rileggere da Blender 2.79 quindi magari andiamo per esempio in Collada andiamo in Collada e ci salviamo Selection Only Animation Include Animation Boh non so proviamo a dirgli di tenere un po' di cose Curves ma potrebbe Apply Modifiers caso mai avessimo dei modifiers strani da mettere io direi che così potrebbe ah include Shape Keys ecco questo a volte me lo dimentico quindi se includiamo anche le Shape Keys che abbiamo appena fatto quindi adesso oltretutto sapete che cosa sono e se avessimo avuto anche le armature avremmo messo anche quelle proviamo a esportare sotto C Documents esportiamo questo e facciamo diciamo Sorriso Animato 2.80 .dai tutto Documents ok ora a questo punto cosa facciamo andiamo in Blender 279 e proviamo a importarlo quindi facciamo un nuovo vedete che in italiano facciamo un Importa Collada Documenti e qui abbiamo Sorriso Animato 2.80 .dai tiriamo su e vedete che ci ha importato effettivamente facciamo che tasto destro togliamo il cubo iniziale abbiamo questa cosa e boh vediamo se cosa ci ha tirato dietro le Shape Keys le avevamo detto di tirarle dentro quindi andiamo in selezioniamo questo andiamo qui e vedete che c'è anche qui le Shape Keys però le Shape Keys vediamo un po' se le ha prese sì quindi non ci resta che di rianimarlo di nuovo quindi andiamo qua facciamo aggiungi frame 1 frame 1 lo vediamo qua vedete che in realtà Blender 280 è fatto meglio quindi prendere 1 gli mettiamo l'animazione di questo valore facciamo i e abbiamo inserito quel valore poi ci spostiamo sul frame 20 anche qua è un pochino meno chiaro comunque siamo sul Blender 20 sul frame 20 mettiamo il valore a 1 facciamo i vedete che è cambiato qualcosa andiamo ancora al 40 e dobbiamo metterci questa animazione qua vediamo se funziona a dunque qui vedete che non sembra possibile selezionare direttamente da qui quindi per fare copia e incolla di queste cose dovremmo farlo da una visuale diverse andiamo un po' andiamo sulla visuale che tipicamente per l'animazione da upsheet che va bene ok da upsheet abbiamo questa cosa vediamo i pallini e avendo visto i pallini proviamo a fare A per deselezionare invece che alta B selezioniamo questi tre punti iniziali shift D e spostiamo verso il 40 spero di averlo azzeccato ok quindi qua se andiamo qui siamo al 40 perfetto e quindi mettiamo ancora ci sarà scritto da qualche parte quindi andiamo dunque vabbè possiamo anche ripristinare il default vediamo se no default abbiamo cambiato quindi dovrebbe essere uno dunque ed ho filmato linea temporale secondo me è linea temporale perfetto abbiamo questa linea temporale quindi siamo tornati e abbiamo l'animazione fatta ok quindi se noi qui 40 c'è l'aveva presa da prima se facciamo il play abbiamo no da 1 a fine 40 poi facciamo il play e abbiamo l'animazione che abbiamo imparato a vedere anche di là benissimo ora facciamo semplicemente un salvataggio di questo file blender quindi salva come e lo salviamo sempre sotto documenti e lo facciamo ehm oh facciamo animazione bocca 279 per ricordarci che l'abbiamo fatto con questo e poi proviamo e poi proviamo infine ad andare su dove su sketchfab sketchfab.com sketchfab.com facciamo l'upload di un formato blend vedete che abbiamo questo file punto blend facciamo l'apertura proviamo a fare continuo e poi continuo ancora faccio veloce veloce e vediamo se ce lo tira su ci impiega il suo tempo ok ieri avevo provato era stato molto più rapido comunque ci impiega di solito non ci impiega mai più di un 20 o 30 secondi adesso ha deciso che ci impiegherà molto di più spero che non sia perché non non gli piace se no proviamo a vedere go to uploads vediamo un po' cos'è ok quindi abbiamo vediamo un po' se lo zaro questi sono quelli questi sono i vari sperimenti ecco qua qui c'è un'animazione ecco vedete che sta ancora lavorando 0 minutes go vabbè interromperò il video e cosa volete vi farò vedere quando avrà finito se avrà finito ok anche se lui ha detto che non era finito sembra che l'abbia fatto vedete che abbiamo l'animazione caricata e il che ci tranquillizza e abbiamo fatto la bocca che si apre e che si chiude e nel caso se vogliamo pubblicarlo su facebook dobbiamo ricordarci di fare un save view per salvare il punto esatto di partenza per esempio questa bocca chiusa facciamo save view ecco ricordate che se non fate questa cosa non apparirà il preview su facebook facciamo un publish ci compare un indirizzo che copiamo e poi andiamo in facebook e proviamo a pubblicarla dunque pubblichiamo come etude 3d blender e apriamo mettere dunque animazione del video e ci mettiamo ctrl v questo recupero dell'anteprima ce l'abbiamo facciamo pubblica ha deciso che non fa vedere la preview nonostante l'apparenza però se ne lo clicchiamo ok abbiamo il nostro modellino che è animato come ci aspettavamo che fosse quindi direi che a questo punto voi potreste se volete se ne avete bisogno animare tante altre cose quindi con questa tecnica potete animare delle cose su cui non è essenziale mettere delle ossa quindi non so movimenti un po' plastici come forse a volte le orecchie sopracciglia o altre cose insomma che si proprio cioè ci sia questo shaping questo morphing che avviene oppure anche delle cose un po' particolari ora io credo che questo sia tutto per questo video e per questa cosa delle shape keys quindi direi ancora sulla tecnica usata quindi sullo skinning che è molto interessante ci torneremo magari con un altro video per far vedere come si può fare delle si possono fare delle modellazioni veloci e già mi è venuto in mente questo perché volevo proprio fare la silhouette della bocca e animarla e questo mi è sembrato il modo più veloce è tutto buona serata